Qua ormai con l'appuntamento dell'anno, della settimana perlomeno, aspettiamo che si connetta qualcuno, intanto prendo come sempre una penna con cui giocare se non riesco a parlare, aiuto, dovrei aver sistemato l'audio questa volta così almeno evitiamo i problemi, ho svuotato il telefono così almeno questa volta riusciamo a salvare la diretta senza troppi problemi perché l'ultima volta è andata perduta. Ciao, aspettiamo ancora un minuto che si connetta un po' di gente, intanto come ogni tanto faccio oggi vi consiglio il libro del giorno è, che ovviamente si vede al contrario però fa lo stesso, la storia perfetta dell'errore. Un libro carino di Roberto Mercadini, non so chi lo segua su YouTube e il libro appunto, storia perfetta dell'errore, dell'errore perché praticamente parla di come alla fine tutte le cose, o perlomeno alcune cose interessanti della storia siano avvenute per errore, per caso. Quindi, ne ho letto a metà mentre ero seduta al dentista a aspettare di entrare, quindi scorre abbastanza veloce. Dunque, ho visto da quanto ti alleni, boh, una decina d'anni più o meno, un po' di più, quanti anni ho? 30. No, una quindicina d'anni, quindi sono anche fin troppo secco per gli anni che ho speso ad allenarmi. Comunque. Dunque, mentre aspetto che si connetta un po' di gente e dopo aver fatto il solito consiglio del libro del giorno, andiamo di... dell'argomento. Qua in sovrimpressione, ovvero... multipower. Però aspetta, ripeto una domanda. Sticking point in uscita dal petto in panca, che varianti consigli? Dipende se lo sticking point è appena stacchi il bilanciere o a metà dell'alzata. Perché comunque lo sticking point è lì, può essere causato o dal debolezza del petto, quindi ci sono tutti quei complementari da utilizzare come fermi lunghi, pin press del petto, cose di questo tipo che migliorano la spinta iniziale. Lavori di questo tipo. O pochi centimetri dopo. Allora direi che è un problema di debolezza, tra virgolette, del pettorale. Se fosse una debolezza di tricipiti, si bloccherebbe più o meno a metà. Poi dipende da quanto arco fai, da un sacco di cose. Quindi se hai problemi appena parti, direi che è un problema di petto. Quindi ti consiglierei di fare fermi lunghi. Pin press, a me piace un sacco la pin press, che è praticamente la panca fatta appoggiando completamente il bilanciere sui pin all'altezza del petto. Sono i due complementari fondamentali. Poi puoi lavorare anche di esercizi che allungano il ROM, come la panca stretta, che per assurdo sì, e per i tricipiti, però comunque vai a scendere anche maggiormente. Quindi la panca stretta è un buon complementare. Quindi questi tre sono già un buon esercizio. Se no puoi fare le dip, che comunque rafforzano il pettorale, puoi fare il panca manubri. Insomma, ci sono un sacco di esercizi. Ho visto una domanda, qual è la progressione del Russian Bear? Ci sono praticamente tutti i miei articoli su Google, sul Russian Bear, cioè tutti gli articoli in italiano sul Russian Bear sono miei, quindi basta cercarne uno. Spiegano meglio di quanto potrei fare io ora nella diretta. Ho visto un'altra domanda. La media dei tempi di affaticamento del CNC quando si lavora sempre all'85%? Non ho idea di cosa significhi. No, non saprei rispondere sinceramente, anche perché non ho capito bene la domanda. Dunque, sì, stavo parlando della domanda qua sopra, del multipower, quando può essere utile? Allora, il multipower, racconto sempre questa storiella quando parlo del multipower, ovvero che in una palestra in cui lavoravo un bel giorno hanno deciso di fare i brillanti e di buttare via il multipower, facendo anche questo fantasmagorico articolo sul loro sito in cui dicevano basta, da noi non si usa più il multipower, perché è una macchina cattiva, fa obbliga traiettori guidate, insomma, tutte queste cose qui. Il problema è che non è un problema del multipower, cioè ogni macchina fa fare traiettori guidate. Quindi non capisco questa demonizzazione che si faccia del multipower. È vero che ti puoi mettere male al multipower e fare uno squat raccapricciante, che oggettivamente va a fare male al miniscope. Però, cioè, l'altro giorno ho visto due ragazzini che sono andato a salvare, perché nessuno si sta raggando, che facevano l'acce express, praticamente arrivavano al petto con tutto il braccio intraruotato e il gomito alto. Cioè, perché allora l'acce express non è una macchina di merda e il multipower sì? Come tutte le macchine è l'uso che viene fatto il problema, quindi demonizzare il multipower di base è abbastanza stupido. Cioè, cercherei di capire piuttosto come utilizzarlo. Come utilizzarlo? Come tutte le macchine, quindi lo si può utilizzare per fare altre ripetizioni, lavori magari a cedimento, lavori magari anche più full run, perché ovviamente col multipower tu puoi andare a fare una squat molto più profondo, in quanto più stabile, di quanto tu non lo faccia con corpo libero. Insomma, non è una macchina così inutile come la si vuole far passare. E' che fa molto maccio spesso insultare il multipower, però non è sempre così. Cioè, anzi, inquadrato bene è molto utile. Tolto il fatto che, vabbè, quando lo si vede usare delle squadre di calcio è abbastanza recapricciante, però un bot di preparatori di bodybuilding, ad esempio Isretel, fa sempre squat multipower. Non mi sentirei di dire che è uno stupido. Dunque, vediamo un po'. Mezzo stacco fatto con trap bar. Buon compromesso per chi ha fastidi lombari? Eh, boh, dipende da come lo fai, perché un mezzo stacco per forza di cose vai a caricare di più, quindi non so quanto possa essere una scelta migliore se hai fastidi lombari, fare un esercizio che per sua natura ti va a fare caricare di più. I crossfitter di alto livello fanno gli allenamenti a caso, come nei box, o fanno vere programmazioni? Sinceramente non saprei dirtelo, perché crossfitter di alto livello non ne conosco. Conosco in compensa un sacco di crossfitter di basso livello che fanno allenamenti a caso e si sfondano. Quelli ne conosco tanti. No, idealmente ovviamente nel crossfit ad alto livello si programma. Ora avevo letto, non mi ricordo l'autore, sì, non mi ricordo l'autore perché è impronunciabile, c'è un libro della Juggernaut, vorrei dire in high sense, vabbè, si chiama Fitness as Sport, che parla appunto della programmazione del crossfit, o perlomeno di cercare di come programmare al meglio le mille cose che richiede saper fare il crossfit. Però è complicato, però sì, ovviamente se tu hai una gregge d'altivelli, c'è anche tutta una componente farmacologica da non trascurare perché alla fine tocca. Dunque, è possibile che il ciclo russo di panca mi abbia fatto guadagnare chili in dip zaforrati? Assolutamente, cioè alla fine non c'è un rapporto perfettamente paritario tra le dip e la panca, nel senso che non c'è un rapporto come può esserci tra panca piana e military press. Ad esempio tra military e panca c'è una sorta di rapporto tra chili, ad esempio in media se tu fai 100 chili di panca hai 60 di military press, più o meno difficile che tu abbia, che so, 80 di military e 100 di panca, quindi sono comunque esercizi che tra loro hanno un rapporto. Tra dip e panca no perché sono rom molto diversi, cioè se tu fai tanto arco e fai i micro rom di panca sei fortissimo di panca, ma per forza di cose non è obbligatorio essere forti di dip, quindi dipende un po' da questo, però comunque forza del pettorale, è ovvio che le due cose abbiano transferta loro e più migliori in panca, più migliori in dip e viceversa, infatti quando, non mi ricordo ad esempio chi, però avevo visto dei calistenici che si sfondavano di dip e avevano buoni massimali di panca, quindi sì, le due cose sono correlate, non vanno di pari passo, però sicuramente più il petto diventa forte, più diventa forte in toto. Conosci il metodo 496? Non so cosa sia. No. E te l'ho già chiesto nelle domande, ma riprovo qui. Conosci la metodologia di allenamento di Boyle? Se sì, che ne pensi? No, avevo letto il libro di Boyle, ma non mi ricordo sinceramente in cosa consiste il suo allenamento. Oggi un sacco di domande a cui la risposta è no, purtroppo. Se l'obiettivo è abbassare i tempi di recupero, quanto tenere come minimo negli esercizi multiarticolari a corpo libero? Bah, sinceramente non andrei sotto il minuto, cioè trovo abbastanza senza senso fare panca con 30 secondi di recupero, o uno stacco, uno squat, o fai lavori tipo emom, cose di questo tipo, in cui può avere senso stare a recuperi molto bassi, però il recupero basso è il senso stesso dell'allenamento. Se invece vai a fare proprio volutamente un lavoro che punta a fare recuperi molto bassi, tolgo l'adesivo che tanto non... se punti a fare lavori che vanno a farti recuperare poco, non scenderei sotto il minuto nei multiarticolari. Dunque... Push-up come complementare di panca per lavori su stress metabolico ha un qualche transfer davvero utile? Ah no, assolutamente, cioè i push-up secondo me sono un esercizio trascuratissimo quando si parla di panca piana. Nelle donne tantissimo, cioè per molte donne avrebbe più senso diventare più forti nei piegamenti piuttosto che nella panca, perché comunque i chili poi dei piegamenti in proporzione risultano maggiori che quelli usati su panca, con tantissimo transfert. Mentre per quanto riguarda uomini, considerando i 70-80 kg di peso medio, quindi persone tra virgolette normali, con un centone di massimale di panca, fare piegamenti è un ottimo complementare che non viene mai cagato. Però i piegamenti fanno tantissimo. Ora, per fare un esempio in prima persona, io ormai un bel po' di anni fa, quando mi allenavo solo a casa, prima di cominciare a fare le gare, facevo praticamente solo piegamenti a casa. E macina ripetizioni, macina ripetizioni, mi sono trovato con un 105-110 di massimale con solo piegamenti a terra. Quindi sono un buon esercizio i piegamenti. Ovvio che più il massimale diventa alto, meno hanno senso, perché vai a lavorare con una percentuale troppo distante da quello che è il carico poi reale. Però finché stai sui 100 kg, i piegamenti sono utili. Poi ci vuole estremamente poco a piazzarsi un disco da 10 sulla schiena, e già li cambia di tanto al lavoro. Quindi sono un ottimo esercizio. Lì si vede tranquillamente i famosi, ormai se non famigerati, pesisti cinesi a fare dei piegamenti tra panche, quindi su rialzo, con dei disti sulla schiena. Quindi benvengano le classiche flessioni. Dunque, sto facendo il metodo a onde. Riassumeresti il tuo pensiero. Sembra un tema della maturità. In quante facciate. No, boh, sinceramente il metodo a onde, tolto il cazzaco, che ha una sua inquadratura specifica, non mi sono mai piaciute. Così, di approccio a mio personale, cioè preferisco altri metodi. Non mi è mai piaciuto questo andare avanti e indietro con i chili. Sono un buon approccio perché comunque, per via della... Come più? Riflesso, no? Riflesso, postetanico. Comunque, l'avere tanti chili puoi scendere, l'avere tanti chili puoi scendere, ti fa sentire i chili sempre più facili. Però è un buon metodo di intensificazione. A me non piace, però fatto in prima persona non piace. Non dico che è un brutto metodo. Provato l'assalto russo per lo squat, dicono che in settimana si guadagna abbastanza. No, i programmi shock di squat e il sottoscritto non vanno tanto d'accordo. Al massimo avevo fatto fare uno small of una volta e chiuso per miracolo, tra l'altro. Però no, l'assalto russo dello squat mi manca, tra le esperienze. Ho 60 chili di military ma ho tanta di panca, come mai? O è fatto male ai military, nel senso che ti dai una spinta di gambe. O è fatta abbastanza male la panca. Quindi magari problemi di setup, ci sei molto piatto sopra, cose di questo tipo. Perché in effetti è un divario molto basso. Quindi, appunto come dicevo, con 60 di military dovresti stare sui 100 almeno. Quindi o hai il petto estremamente debole, o non sono in realtà 60 di military, o il problema è tecnico nella panca. Piegamenti utilizzando il multi-power come sovraccarico. Che senso? Squat. Spero. Ora ma perché mi chiedete sempre di quella scuola di pensiero di Kenshiro? Non mi interessa parlare di altre persone. È una metodologia che si concentra... Ah, sì, quella di Boyle. Sulla forza monopodalica sia di squat che di stacco, fondamentalmente. Secondo la tua esperienza potrebbe effettivamente avere un miglioramento sui massimali. Beh, il lavoro monopodalico sicuramente sì, viene spesso trascurato in tutti gli esercizi di gambe. Se nella panca si può fare panca manubri, lento manubri, tutto quello a manubri, per le gambe si lavora spesso poco in una gamba alla volta, diciamo. Ovvio, fare stacco una gamba alla volta non mi sembra proprio un'idea geniale. Però tolti gli affondi le persone trascurano un po' il monopodalico sulle gambe, quindi ben venga. Ovvio non ci puoi fare tutta una programmazione attorno, però nei limiti io cerco sempre di inserire almeno per ogni scheda un esercizio con solo una gamba alla volta. Dunque, con 50 piegamenti di fila, io che peso 83 kg, quanto possa avere di panca? Eh boh, io ne pesavo più o meno 80, quello avevo con quell'esperimento là, quindi secondo me di nuovo siamo sui 100... Io con queste cose qua stavo sui 105-110 di panca, però l'avevo un attimo ripresa, quindi non erano immediati. Però sui 100-110 circa, poi dipende poi dalla tecnica e da un botte di cose, però... Vediamo, mi sembra perso una domanda prima. Ah, no, ok, avevo risposto, sì, 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 niente. Ok, sì, quindi tolto il metodo di Kenshiro, ho risposto a tutti, a parte che non ho capito i piegamenti utilizzando il multipower, però vabbè, intanto oggi ho ricevuto un sacco di domande, quindi ne cerco un po' un'altra. Allora, ah sì, questo è interessante, a proposito di transfert, visto che abbiamo parlato di lavoro monopodalico. Squat essenziale per lo stacco. Ora, sicuramente sono due esercizi che in una programmazione si completano a vicenda. Più lo squat che lo stacco, perché lo stacco è comunque un movimento a livello di gambe molto più completo, specie se lo si fa a bilanciare basso, diciamo, perché comunque, essendo sempre il dominant, va a completare tra virgolette lo squat. Quindi è più facile che uno squat low bar di transfert allo stacco, che uno squat high bar, a grandissime linee. Lo stacco, secondo me, ha molto meno transfert sullo squat, di quanto non ne abbia lo squat sullo stacco. Il pistol squat, per rispondere a una domanda qua in diretta, ha transfert, però, ottimo lavoro monopodalico, tra l'altro. C'è il problema del carico quando si parla di transfert, cioè il carico con cui tu fai l'esercizio deve essere, in certi termini, vicino al carico poi che tu usi nell'esercizio. Quindi, fondamentalmente, nel pistol squat tu fai il tuo peso corporeo, quindi diciamo che fai 70 kg, sei spesi 70 circa, con una gamba. E dipende quindi del tuo massimale, se tu fai 100 di squat, allora transfert, se tu hai 150 di squat, ne ha meno, se tu hai 200 di squat, ne ha meno. Quindi il pistol, in questo caso, andrebbe sovraccaricato, eccetera. È come il discorso dei piegamenti, cioè i piegamenti hanno transfert nel momento in cui tu hai un massimale basso di panca. Se tu hai un massimale alto di panca, ovvio che i piegamenti li devi sovraccaricare e magari hanno un transfert minore. Quindi tutto dipende dal proprio massimale, per capire il transfert. Dunque, vi ho visto una domanda sopra. Volume settimana lower, loggia posteriore, loggia posteriore, vabbè, credo sia in grado di battitura. Volume settimana lower, 15-20. Inserire altrettanto volume di spinta sempre lower? No, vabbè, non devi fare tutto in paritario, come dico sempre, ogni gruppo muscolare, a seconda di quanto è allenato, a seconda di quanto tu sei abituato, ha il suo massimo volume tollerabile e ha la sua capacità allenante. Sempre per citare me stesso, io dopo anni di gare di panca ho la parte sopra che regge molto molto più volume delle gambe, perché le gambe le ho sempre tenute in normo, diciamo, mantenimento nel periodo in cui facevo gare. Quindi, se provo a fare lo stesso volume di gambe che di spinta, di trazioni, eccetera, muoio, semplicemente. Quindi, dipende. Cioè, vedi te, se recuperi, aumenta il volume, se non recuperi, diminuisce il volume. Cioè, alla fine si basa tutto sui feedback che hai tu stesso. Cioè, in palestra mi hanno consigliato quattro gambe di zosterone, sono giusti? Immagino tu sia il re della festa quando sei con gli amici, con questa burlosaggine. Dunque. Ciao, nello squad gear sbaglio o le giuglie sono più magnanime sulla profondità? Beh, sinceramente non saprei. Cioè, le gare, onestamente, non le guardo. Le guardavo prima perché ci andavo. In streaming, sinceramente, evito pure di guardarmele come vanno. In FPL sono sempre piuttosto bacchettoni. Cioè, per assurdo, in IPF e in mondiali trovi giuglie più magnanime di quanto non siano qua in Italia. Però, dipende anche dalle federazioni che guardi. Cioè, in America tendono a dare più valide di quanto non siano. Il che è un po' triste, tra l'altro. Però, dipende dalle federazioni, dipende dalle categorie, dipende da un sacco di cose. Quindi non saprei dirti nello specifico. Dopo anni di palestra, come si può uscire dallo stallo? Non entrandoci. O perlomeno capendo perché hai... perché hai stallato. O ti sei allenato troppo o stai programmando male. Cioè, lo stallo alla fine non è che è una condizione obbligatoria. Si stalla quando c'è un problema o nella programmazione o, di conseguenza, nell'alimentazione. Quindi, se tu sei normocalorica fissa e ti alleni programmando male, non esci da quella situazione. Se tu non imposti mai progressioni sui fondamentali, monarticolari, eccetera, ti pianti. Cioè, alla fine l'alimentazione deve essere un cercare di fare sempre di più in qualche modo. Se ti manca quel fare di più, ti blocchi. Quindi, probabilmente, è quello il problema. Oppure, ci sono persone che stallano perché a son di fare così tanto, poi non migliorano più. Ovvero, c'è il classico esempio che faccio del palestrato tipico. C'era un signore in una vecchia palestra in cui andavo che praticamente viveva di fare braccia. Cioè, io lo vedevo, faceva solo e esclusivamente braccia. C'è ora fatto 30 serie settimanali. Il problema del fare 30 serie settimanali è che poi tu alzi talmente tanto la soglia di tollerabilità che magari per crescere devi farne 35. Ipotizziamo. Però il tuo corpo, o più di 30, diciamo, non è in grado di recuperare. Quindi hai posto la stiscella talmente in alto che dovresti fare un volume tale per crescere più alto di quello che puoi recuperare. E quindi ti pianti. E lì la cosa è calare il volume per un bel periodo e vedere anche un mesetto, due, perché no? Magari lavorare di più sull'intensità e fare veramente poco volume e poi piano piano cercare di riaumentarle. Come con la dieta. Cioè, tu non puoi fare sei mesi di restrizione calorica perché il tuo corpo per sopravvivere si pianta. Quindi come fai con la dieta? Periodi di mantenimento, periodi di percalorica, periodi di normocalorica, ipo, eccetera. Cioè, in tondo lo stesso si fa con l'allenamento. È indispensabile programmare un over-riching funzionale in programmazione? No. Spesso sì, ma non è indispensabile. Sicuramente, comunque, arrivare a una forma di over-riching, tra virgolette, un sovraccarico ti permette di dare un senso alla settimana di scarico. Perché le persone scaricano un po' a babbo, cioè, mettono le settimane di scarico un po' lì come gli capita. In realtà, una settimana di scarico ha senso quando tu devi recuperare. Cioè, se tu non ti metti in condizioni di dover recuperare da allenamenti troppo pesanti, non ha senso scaricare. Cioè, lo scarico deve essere, appunto, un'esigenza. E l'esigenza devi programmartela. Anche lì, non è che si scarica a caso, quando ne hai voglia, in mezzo a un programma, pianto lì una settimana e poi ricomincio. Lo scarico deve essere inserito in un contesto tale che tu vai a recuperare le energie, diciamo, da... Da una situazione di overreaching. L'overreaching, che è estremamente raro, più raro di quello che si creda, se tirato avanti per settimane, 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 diventa poi sovralenamento. Il problema è che le persone poi credono di sorpassare questa parte e tutti pensano sempre di essere sovralenati, quando in realtà stanno appena entrando nell'overreaching. Quindi due settimane di carichi che calano, significano solo che tu sei sovraccarico, non sovralenato. Da lì scarichi e vedrai che riparti. Ogni quanto a fare lo scarico, e appunto, come dicevo, te lo programmi, almeno di arrivare in una situazione di overreaching ogni sei settimane circa. Otto, anche dodici. Cioè, alla fine, se tu segui un classico programma... No, il ciclo russo è troppo breve, però un programma di forza qualsiasi dura in media dodici settimane. Cioè, dodici settimane sono abbastanza per scaricare. E per scarico intendo scarico proprio completo, effettivo. Uno scarico più leggero lo puoi fare anche classico 4 più 1, 5 più 1, cioè fai 5 settimane di allenamento pesante e una settimana la introduci più leggera, di scarico attivo. Mentre scarico proprio volume molto basso, cose di questo tipo, ha senso farlo una volta ogni tre mesi, anche di più. Però deve essere collegato, come dicevo prima, a un effettivo overreaching. Cioè, tu puoi fare le tue cinque settimane di sovraccarico sempre maggiore, overreaching, scarichi, ricominci, eccetera. E poi, a fine programma, quindi dopo il massimale, ci sta una settimana in cui cazzeggi, perché comunque si presume che dopo un massimale a livello di SNC tu sia molto provato, effettivamente. Il sistema nervoso centrale è quello che ci mette di più a recuperare. Quindi quella settimana ne approfitti proprio per fare uno scarico vero e un pochino più tassativo. Tutto il resto, invece, sono scarichi attivi che puoi gestirti meglio. Goblet squat al posto di back squat per scarsa mobilità delle spalle. E difficilmente a livello di carichi arrivi nel goblet ai carichi del back squat. Perché comunque è un peso che devi tenere in mano con una maniglia, cioè, quindi ha senso, giusto, se sei l'asciura maria che carica 30 kg di squat all'asciura maria che hai in mano un kettlebell da 10 kg e contenta è uguale. Uomo allenato cazzo, tenere in mano un kettlebell allenante per fare squat ti cade nelle braccia. Quindi piuttosto front squat o leg press hack squat ma goblet squat ha decisamente poco transfert rispetto allo squat. Nel multipower mettere i piedi in avanti da maggiore target su gluteo. no, in realtà mettere i piedi in avanti dà un bellissimo transfer sui crociati anteriori che partono via perché se tu metti il piede in avanti praticamente il piede rimane avanti solo perché c'è l'attrito del pavimento. Sei in una posizione tale che gli ischio scura gli ischio crura vabbè femorali che i femorali si attivano malissimo perché il bacino non ruota quindi essendoci il bacino che viene si muove male non si attivano e tutte le forze di taglio vengono assorbite praticamente dal dall'articolazione che è l'unico motivo per cui non ha senso fare squat a multipower cioè con i piedi davanti ti fai male alle ginocchia quindi se devi fare squat a multipower meglio fare lo squat come lo faresti normalmente. Sto facendo occupazione a scuola solo perché così ho cinque palestre tutte per me genio grandissimo lento avanti manubri in piedi provato consigli sì non mi piace non mi piace perché no quella dell'occupazione è geniale è più difficile tenere la traiettoria dei manubri da in piedi cioè ha senso stare seduto perché lo schienale comunque ti dà una superficie di appoggio stabile per riuscire a gestire al meglio eh sì anche quello è un valido motivo per fare occupazione no dicevo il bilanciere da seduto da in piedi comunque la traiettoria è quella i manubri invece devi avere un devi essere più stabile ed è più difficile compensare il lavoro dei manubri da in piedi io il lento manubri lo faccio sempre da seduto personalmente perché mi trovo meglio non che io abbiamo problemi di mobilità sì sì squat si continua a vederlo apparire tipo matrix ma non capisco la domanda sul sì sì squat è la nuova anche a scatto il sì sì squat qua mi sa lento dietro sì sì squat qualcuno vuole dire un altro esercizio no dicevo il lento manubri compensi è più difficile da compensare perché comunque da in piedi la lord anche se poca mobilità compensi dalla lordosi però muovere un bilanciere è diverso che muovere un manubrio quindi se devi scegliere io sinceramente preferisco fare tutte cose di questo tipo ovvero manubri seduto e bilanciere dai piedi cioè bilanciere farlo un po' come vuoi avevo risposto sì sono confuso dalle scritte di nomi degli esercizi che compaiono a caso comunque quanto va curata l'esecuzione in una scheda di forza quanto può smentrare il cheating in una scheda di forza mai cioè il cheating è una deriva piene mani dalla bro science cioè una cagata da bodybuilding il cheating quindi no cioè il cheating lo puoi fare nel car bilanciere ti fai quella ripetizione in più tutta tirata di lombari che non ha minimo senso di bicipiti però come fai il cheating nella panca se fai il cheating nella panca una merda viene nello squat è impossibile fare il cheating nello stacco fare il cheating è praticamente una scommessa su quale verta però ti parte per prima quindi non esiste il cheating nelle schede di forza esiste il cheating appunto dicevo nella bro science che però alla fine se tu fai il cheating non fai altro che togliere il lavoro ai muscoli che vuoi allenare citando la cosa del carico bilanciere cioè tu puoi darti tutti gli slanci che vuoi di lombari ma più ti dai slanci di lombari più togli il lavoro al bicipite in tutti gli esercizi il cheating toglie infatti vuol dire barare però è un barare stupido perché se tu fai un stai allenando un gruppo muscolare e fai a fare cheating ti togli il lavoro da quel gruppo quindi non ha senso non a caso le schede nei schede le prove di forza ad esempio di carico bilanciere le fanno schiena a muro un front squat multi power come lo vedi eh non benissimo non l'ho mai provato ma forse c'è un motivo se inconsciamente non l'ho mai provato sicuramente non l'ho mai visto fare massimale militari ferma 90 kg che comunque non è proprio uno schifo inizia una progressione di 8 settimane 8 per 1 iniziando con 82 e finendo l'ottava settimana 90 può andare 90% e sì pesante poi ovviamente dipende dalla frequenza settimanale complementare eccetera però non male un attimo bevo un attimo e non ho la mia borraccia ho ceduto la bottiglia stasettimana dunque panca 4 volte a settimana come impostarla? eh dipende durata della programmazione punti deboli obiettivi puoi farla anche tutte e 4 varianti come fare tutte e 4 fondamentali dipende dal livello sono cose che richiedono ahimè un bel po' di tempo per essere spiegate in linea di massima puoi fare due complementari due varianti esercizi di destrezza e coordinazione con kettlebell che ne pensi? ah prima c'era una domanda sui tera x a proposito mi è venuta in mente ora vabbè ma ti dico io i kettlebell sinceramente lì detesto abbastanza fuori dal loro contesto che è il ghillie sport perché come tutto poi diventa una malattia cioè tutto deve per forza diventare una soluzione a ogni cosa quindi anche il kettlebell è stato preso da un contesto tirato fuori stuprato è reso ideale per ogni cosa cioè mobilità forza conditioning preparazione atletica cioè non capisco perché ogni cosa deve avere senso obbligatoriamente per tutto comunque detto ciò no a me i kettlebell mi piacciono o per fare lavori di conditioning nel senso tipo ghillie sport ovviamente cioè o mi piacciono per fare lavori di mobilità come tolto il torkish get up che lo odio comunque ci sono due o tre esercizi di mobilità che secondo me hanno senso fatti solo col kettlebell tolto quello io il kettlebell lo userei poco cioè ha senso come usare qualsiasi altro attrezzo cosa fare dopo un ciclo russo abbastanza sconvolgente scarichi e poi dipende cioè la domanda su cosa fare dopo è sempre difficile perché il cosa fare dopo dovrebbe saperlo chi decide il programma cioè l'idea dovrebbe essere bene ora mi faccio un ciclo russo per qual è l'obiettivo cioè l'obiettivo in questo contesto ovviamente immagino migliorare il massimale quindi ora che hai migliorato il massimale l'idea immagino se l'allenamento forza è fare un altro programma per migliorare il massimale quindi semplicemente questo cioè hai fatto un programma di powerlifting diciamo fanno un altro se hai fatto un programma shock ci sta a fare un programma estremamente più easy quindi magari hai fatto un ciclo pesante di due mesi ora fanne uno magari spalmato su quattro senza percentuali che ti tirino che ti tirano troppo oppure fanno un altro ancora più shock nel senso dipende tutto da come ti sei trovato quindi lavori di questo tipo però sì il cosa fare dopo è sempre una domanda che ha tra virgolette poco senso perché io quando imposto gli obiettivi dovrei sapere io cosa fare dopo le varie cose che faccio cioè devo sapere io i miei obiettivi po 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 domanda cosa che ho visto no quanto tempo dovrebbe durare una sessione in palestra un'ora un'ora e mezza e ma io sinceramente dipendo ovviamente da quanto possa essere intensa la singola sessione è ovvio che se ti alleni un'ora e mezza di fila diventa un disastro cioè è bello pesante io tra una cosa e l'altra ci sto due ore e mezza ma una mia mezz'ora di verticali la faccio seguo anche altre persone quindi non è che mi alleno tutto di fila quando facevo powerlifting powerlifting nell'ultimo periodo in cui ho provato il il project momento di 2share project momentum di 2share l'allenamento durava anche tre ore lì veramente filate infatti era un massacro erano una media di 2 squat 2 panche 1 stacco a sessione o c'erano 2 squat o c'erano 2 stacchi e l'allenamento durava anche 3 ore però lì era veramente un esperimento fallito miseramente tra l'altro però niente l'allenamento dura quanto deve durare cioè dipende da cosa stai facendo in media direi una scheda dovrebbe avere 5 massimo 6 esercizi non andrei oltre quindi un'ora e mezza un buon tempo non farei come l'errore classico di quelli che pensano che dopo l'ora cominci a bruciare vivo a causa del cortisolo cioè quella è una cagata ampiamente dimostrata quindi un'ora e mezza va benissimo per 3-4 volte a settimana nessun problema puoi andare oltre che non esplodi allora per i principianti che cosa vuole sviluppare forza eh no che vuole sviluppare forza il giro russo il programma di shako e allora strano perché allora 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 boh il programma di shako vuol dire tutto e niente cioè non c'è il programma di shako ci sono tipo 50 programmi di shako quindi non esiste un programma di shako ciclo russo per un principiante è tosto quindi non domanda un po' vaga in linea di massima il principiante col ciclo russo è sconsigliabile da un lato si migliora tanto perché comunque va a ah si mi ero perso questa la bordo ora ti rispondo va a migliorare tanto però non ha sicuramente le competenze tecniche per affrontare un ciclo russo bene quindi no ciclo russo per i principianti che cosa ne pensa ti prego dammi del tu board press floor press sono buoni complementari per per la chiusura per i tricipiti sono ovviamente per fasi diverse cioè la floor press non è un esercizio in cui tu vai a caricare tantissimo per quanto sia parziale perché comunque la posizione non è ottimale non c'è leg drive quindi è un buon complementare più da da accumulo secondo me per come almeno io lo allenavo per come mi ci trovavo eh non è nessuna verità mentre la la floor la board la facevo con due legnetti da 8 cm totale quindi 4x4 mi piaceva un sacco per le fasi di intensità perché comunque nella floor vai a caricare un bel po' di chili ci mi ricordo di averci fatto di presa stretta medio stretta una tripla col massimale quindi insomma ti permette di andare a metterti in mano carichi importanti e comunque ti permette di sentire in mano ad esempio il tuo massimale che è importante in fasi finali di allenamento perché se tu non hai mai in mano pesi veramente pesanti ti penalizza invece metterti il tuo massimale e gestirlo farci delle triple farci un po' di ripetizioni dei set andare anche oltre perché mi ricordo che ero andato anche oltre tipo quando avevo 160 mi ricordo di aver fatto al massimo mi sembra una doppia 170 una cosa così però sapere che tu quei pesi li puoi avere in mano e non muori psicologicamente fa tanto non ti sa di novità alla fine quando li fai quindi la board è un ottimo esercizio da fase di intensità puoi farci anche dei lavori metabolici che sono una figata tipo mi ricordo questo esercizio che si chiama tricep cell che praticamente tu metti tre board quindi facciamo 4 4 4 presa stretta quindi larghezza spalle e fai col sembra 70% due colpi togli una board due colpi togli una board due colpi togli una board cioè arrivi fino al petto a far doppie e poi ti fai rimettere le board in salita alla fine fai quasi una ventina di ripetizioni seba 16 ed è un lavoro che ti fa esplodere letteralmente le braccia ed era una figata come complementare fase di ipertrofia però quindi alla fine non è che un esercizio va preso a scatola chiusa per un obiettivo lo contestualizzi un po' come vuoi però sono belli gli esercizi parziali per la panca mi piacevano soprattutto perché nella panca puoi fare veramente tante varianti nello squat queste cose non le puoi fare il massimo che puoi fare è fare squat con i pinalti non ti dà la stessa soddisfazione del spesso ideale per le board 4 5 centimetri più bassa non ha senso perché che senso ha toglierti 2 centimetri di board puoi fare anche più alte come dicevo appunto con 8 centimetri lavori bene 10 non andrai oltre le 10 cioè 15 centimetri di board una tavola spessa così fai 3 centimetri di movimento anche lì ha poco senso quindi deve essere un buon rapporto tra chili usati e movimento che vai a fare e ricordando comunque che la board inizialmente nasce anche soprattutto per l'attrezzato quindi l'idea delle board tanto alte ha un altro contesto ovvero quello di abituarsi a scendere con le maglie da gara però per il row appunto vanno benissimo però deve esserci comunque una buona dose di rom dietro perché se non hai rom non non è allenante perché tanto vale allora staccare il peso e riportarlo sul rack dunque quando comincio a parlare di punk è duro a fermarmi allora vedo se mi sono perso qualche domanda poi se avete qualcosa chiedete pure questo risposto sei un grande non l'avevo visto grazie in ritardo sfizia di esercizi a caso ok no ci siamo non mi sono perso niente ottimo allora qualcosa sull'allenamento con macchine isocinetiche e se non sbaglio sono quelle che ti danno un ah tera x continuo a dimenticarmelo si si rispondo prima al tera x comunque le isocinetiche sono quelle con cioè isocinetico vuol dire che un rapporto col tempo comunque avevo io ho provato quelle che ti danno tot chili in positiva e tot chili in negativa il massimo che sono sono riuscita a provare quindi quelle va bene come risposta tera x tera x allora in un contesto fitness è ottimo perché comunque quando facevo l'istruttore di sala per non obbligare comunque le persone alle macchine perché comunque non mi piaceva cioè se tu prendi per quanto lo facessi prendi una e la metti allenavo per lo più alla fine signore in pausa pranzo se tu la metti al repress non è che gli insegni chissà che cosa se tu invece la metti al tera x comunque le insegni un movimento uno schema motorio e deve pensare un attimo di più quello che fa piuttosto che spingere contro una pedana quindi ottimo i tera x in un contesto fitness hanno anche un ottimo parco esercizi ti permettono di fare un sacco di esercizi indipendentemente dal livello quindi c'è la signora che gli fai fare squat al tera x pistola al tera x affondi al tera x strane forme di rematori al tera x quindi utile più il livello si alza più secondo me diventano inutili perché comunque dopo che tu sai ad esempio fare delle trazioni cosa ci fai al tera x certo non ci fai rematori oppure anche lì cioè se tu puoi fare uno squat perché usare il tera x puoi giusto impararci i pistol ma anche dopo che li sai fare fine dei tera x però in un contesto palestra per gente con obiettivi normali che sia muoversi o reimparare a muoversi tanta roba cioè piuttosto io farei una palestra con solo tera x piuttosto che piena di macchine se tu volessi davvero insegnare alla gente a muoversi che bravo grazie sulla fiducia jm press jm press è un buon complementare per i tricipiti l'angolo di lavoro non è dei migliori perché comunque è una sorta di french press col bilanciere che te lo porti sul mento quindi non è proprio buonasera non è non è decisamente articolarmente vantaggioso però se tu non hai problemi ai gomiti lo fai con buoni carichi lo fai con buffer cioè mille raccomandazioni buon esercizio tanto per variare ogni tanto fermo restando che è un multiarticolare multipower per lavoro di isolamento e cosa ci isoli? cioè è difficile cioè per lavori monoarticolari vorrebbe dire isolamento però cosa puoi fare di monoarticolare al multipower Falev partire dal 5x5 per 4x4 se 4x2 è 1 guarda partire dal 5x5 è molto molto limitante perché appunto il passo successivo è fare il 4x4 e quella ti c'ha la progressione dura veramente poco piuttosto se vuoi fare una versione ridotta ti fai prima tutta la parte in 5x8 e quando vedi che ti pianti passi al 5x5 cioè salti 5x7 5x6 che comunque vuol dire 5x8 dura almeno un mesetto mesetto e mezzo quindi è interessante e almeno ti fai anche una buona fase di volume perché comunque il 5x5 è molto ridotto utile allenare deltori posteriori o sono come trapezi e polpacci beh no i deltoidi posteriori comunque secondo me hanno a parte che li alleni già con tutte le tirate e trazioni quindi non sono come trapezzi anche i trapezzi in realtà sono allenati con tutto il loro coperto cioè il muscolo è veramente inutile da allenare in ambito forza sicuramente i polpacci il trapezio lo alleni perché comunque per quanto isometrico e non specifico nello stacco lavora nel lento avanti lavora cioè nelle trazioni orizzontali verticali lavora quindi sempre allenato e allenando trapezio alleni comunque anche il deltoide posteriore c'è tutti i movimenti di tirata allenano il deltoide posteriore puoi farci qualche esercizio di isolamento se vuoi se magari hai i problemi nel poggiare i bilancieri nello squat perché comunque più gli ipertrofizzi più l'appoggio è comodo panca parolimpica utile nel plero queste sono tu non lo sai ma questa domanda mi fa triggerare tantissimo no allora utile è una variante alla fine della per imparare a settarti senza usare il tronco quindi io la facevo anche se facevo semplicemente la versione con i piedi sulla panca senza dover stare con le gambe dritte perché il contesto è uguale quindi la panca parolimpica è un po' abusata perché è stata la moda un po' di due anni fa cioè vedevo tutti fare la panca con le gambe dritte con strani marchi ingegni avevo pile di step a fianco alla panca per tenere le gambe dritte cioè roba che vuol dire veramente non aver capito il concetto il concetto della panca parolimpica è appunto che tu non usi le gambe per il leg drive fai panca basandoti solo sulla tua capacità di settarti fine poi puoi mettere le gambe dritte le gambe sulla panca le gambe incruciate le gambe sui supporti non cambia assolutamente niente ha lo stesso principio per dire della floor press ti puoi mettere a terra e non spingi di gambe e basi tutto di nuovo sulla tua capacità di settarti quindi è un esercizio utile ma non è l'esercizio miracoloso tanto da doverlo vedere così incredibilmente abusato anche perché tutti fanno panca parolimpica però nessuno fa panca coi piedi per dire sulla panca quando sono la stessa cosa quindi il concetto è ottimo però va un attimo capito il concetto perché se no si cade sempre nella solita moda dell'anno infatti è stata la moda di un paio di anni fa questa questa cosa qui dunque 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 abbiamo ancora un 5 minuti se stavolta cancello di nuovo la diretta mi sparo e si vedevo prima miglior miglior panchista del mondo beh si kodama kodama ora non mi ricordo nello specifico se non sbaglio pesava 70 kg ne sollevava 300 solleva credo non è morto quindi ne solleva più di 300 attrezzato e sì però io preferisco gente tipo Saricev cioè quando devo vedere prestazioni importanti preferisco i ciccioni perché comunque hanno setup meno estremi ed è più forza brutta novi ho un rapporto peso potenza nettamente inferiore a gente come kodama però sono punk più più impressionanti per quanto a me piaccia la panca e per quanto io faccia panca nel modo in cui la fatta quindi arco eccetera non mi piace per niente vederla la panca perché anche come la faccio io poco rom non mi piace cioè infatti ho smesso di farla proprio perché non mi dava più soddisfazione oggettivamente cercare di dover accorciare il rom sempre di più per fare un chilo in più dunque si inizio di domande 5 per 5 fondamentali e 3 per 8 complementari sì perfetto complementari cambiati ogni settimana ciccione è meglio esatto e sì magari non cambierei i complementari ogni settimana perché è un po' eccessivo cioè ok variare ma non con questa frequenza eccessiva però sì ben venga magari fai una settimana un complementare la settimana dopo un altro cioè gli alterni di settimana a settimana ed è ottimo secondo me Falev mi consigli di passare da 5 per 6 oppure 5 per 8 5 per 5 6 per 3 ok e dipende da quanto tempo e voglia hai di stare dietro al Falev perché se tu fai 5 per 8 5 per 7 5 per 6 5 per 5 6 per 3 test secondo me non ti partono meno di 4 5 mesi 5 e oggettivamente può essere veramente veramente palloso fare un programma per 5 mesi per quanto ti dia quindi 5 per 8 5 per 5 6 per 3 è capace a portartene via 3 4 quindi proverai dunque allora combo di domande sì ce la faccio tanto ancora 5 minuti a quando il secondo volume del project strength allora sì il secondo libro avevo fatto l'altra volta la diretta e mannaggia mi si è cancellata proprio la parte in cui ne parlavo volendo essere estremamente sintetico è un libro su praticamente come mi alleno io ora cioè cercare di mischiare corpo libero bilanciere balance conditioning anche se non lo faccio metto pure il conditioning stretching cioè un libro per chi si allena fondamentalmente perché gli piace allenarsi cioè quindi fare quello che voglia di fare perché vuole farlo cioè senza mettersi un'etichetta faccio powerlifting faccio calisthenic faccio bodybuilding faccio punto croce perché nell'istante in cui ti metti un'etichetta devi per forza di cose tagliare fuori il resto cioè se tu dici faccio calisthenics non ha senso fare panca se tu ti metti invece un ottico in cui fai semplicemente le cose che ti fa piacere fare e allora puoi fare veramente quello che vuoi e tutto si riesce a incastrare ecco il libro che sto scrivendo motivo per cui è difficile vado un po' a rilento è cercare di far passare questo cioè ci si può allenare con obiettivi estremamente diversi tra loro ma facendoli comunque combaciare un workshop vicino a Bologna allora nella zona che è un po' ampio come raggio dovrei riuscire a venire a Firenze non so se fine novembre perché ora faccio questo workshop o vado e poi organizzo quelli dopo quindi ho in ballo Udine zona Roma zona Firenze quindi vedo un attimo quale delle tre riesco a organizzare con più facilità secondo te qual è il miglior setup per la panca piana? eh no c'è 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 il setup della panca piana il setup della panca piana è quello giusto quindi scapele adotte e arco per cercare ad avere il petto più in linea possibile con l'omero è il setup da tenere quando fai panca non c'è il setup ah è vero sì anche Padova in effetti me ne lo sono dimenticato sì no sono contento di questa cosa perché ogni volta che parlo del libro devo ammettere che io ho una caga estrema perché ho paura che cioè ovviamente come qualsiasi cosa io scriva non mi convince mai del tutto quindi ho sempre paura possa fare cagare letteralmente però in realtà quando dico di cosa parla poi non tutti mi dite che vi piace quindi ci conto su questa cosa lo spero perlomeno lo spero punk overloading e deloading come fare senza rack deloading non puoi perché ci vuole qualcosa sul soffitto qui attaccare gli elastici overloading ti bastano dei dischi per terra ci leghi attorno un elastico e via o catene però non è necessario il rack per l'overloading è necessario per il deloading perché serve qualcosa sopra di te per attaccarci gli elastici però se tu fai l'overloading alla fine il concetto è il medesimo quindi va benissimo fare solo overloading ok ora c'è la bologna risposto volume questo sì ok allora siamo addirittura d'arrivo mi riesci a fare l'ultime rise completo no decisamente no ma principalmente perché ho scoperto tipo ieri pomeriggio giuro come riuscire ad allenarlo in palestra perché non c'è logittimamente proprio il posto in cui farlo o ti attacchi e metti i piedi sotto il multipower ma è scomodissimo o ho scoperto di poter utilizzare una panchetta per gli addominali a questo scopo fermo restando che è un esercizio veramente veramente tosto cioè è un po' le farlo veramente completo quindi col busto dritto è un po' la trazione con una mano delle gambe mi sono già messo in prevendita grazie spero eh ho mandato ora l'ultima versione due giorni fa quindi ora vi tengo aggiornati sicuramente devo ancora correggere un sacco di cose mancano le foto quindi però il grosso grosso secondo me è fatto programmare su uh 30 secondi programmare su 10-12 giorni invece che su settimana sì non c'è problema dunque ragazzi sì ci siamo 20 secondi vi ringrazio di nuovo per questa diretta spero di riuscire a salvarla questa volta e metterla su youtube se c'è qualche altra domanda rispondo nelle storie quindi di nuovo grazie a tutti ci vediamo mercoledì prossimo con una solita sfilza di domande quindi buona serata a tutti